ma tu lo sentiste qui da gilla? she's a bitch, una bitch e una porca questa gilla no, un saccio, un saccio, ma stiamo facendo la testa per la bimba si, si, poi pure di chi su questa bella? non so che mi invitami a capare, porca si, mi invitami a capare ah, che sì però quando gli da tipo aveva bisogno lo capisci? e si needed help oh no bravo, si pica il telefono e si chiamami si è questa porca che è e io sempre dara a culo si trova un marito meglio o me? ma è meglio così perché io tanto lo spalegnavo hai sempre da mani che tanto per ora il mio marito con la pensione della figlia ma anche una pezzo non vengo acce eh vabbè, sono acce bella mia brutta da sua figlia, doc sua figlia, let me tell you something i da sua figlia, lo cazzo è un Facebook si sta facendo tutti i mascoli di un Facebook ma tu avresti come la distrutta questa porca? ma la minigonna fino a calera si, 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 e i miei tutti che ci cademmo tutti di fuoco la campulla, ma chi si sa fatto menzo in New Jersey half New York è tutto che è le cat eh, è tutto sicilia no? e tu viste? a chi derogato il mio mio che la c'era a correre i polizi a correre a chi il suo marito e il suo marito ha sbagliato da lignato un lignato già? si, mica i da gridava gridava come una pazza e io dovevo in casa che assicinava chi capisce io, mio marito, Pinuza e suo marito ah, Pinuza c'erano? e noi andavamo a andare a fare ah, da Brocchino a Pizzato? si, si, ho Brocchino a Pizzato e noi andavamo a fare e noi andavamo a fare mentre io e mio marito andavamo a fare la pizza e noi andavamo a fare la pizza e questa porca che è c'è ora l'ansalata o appetizer il suo marito si pica i ravioli si fattu' pure la pizza e questo va a dire ah, poi c'è arriva un c'è non mi dico no, non mi dico su un gran cosa che è aspettò e dopo urba aspettò che mio marito gli appicchia la c'è allora mio marito che fa e lo pagò e mi sa il c'è ma manco a dire che andavamo a fare un sacchetto a dire che cazzo stilo lungo a metà o magari un cazzo di trip questo cipazzo cipazzo, ma c'è mia manco un'infignazione su porca e bastato minchia ma la prossima volta che io mi porto a mangiare aiutati aiutati cacciamo futtuti noi che ne mangiamo sulla pizza e si futterò in un ristorante a questa volta che non ce ne c'ho qui vergogna vergogna schifezza uno più schifo in auto io qui non ce ne c'ho più no good con il rapporto il tuo cuore su un cucchiere e un cazzo di fischio a queste porce una porce veramente quattro slice all'uno quattro slice ne mangiamo ne mangiamo che cazzo ma che schifo e poi a me a me un mitanoace mica ma si usciava una busta ci metteva io 4 dollari ci metteva io ma che ce ne busta si da me metteva